La nostra rubrica è il venerdì dal sindaco, oggi 24 dicembre ha un sindaco del tutto speciale. Il sindaco metropolitano oltre che sindaco di Torino Stefano Lorusso per gli auguri a tutti i nostri 311 sindaci. Sicuramente a loro e a tutti i cittadini e le cittadine della città metropolitana gli auguri del sindaco metropolitano perché queste feste segnino davvero la ripartenza. Noi abbiamo sofferto tanto, stiamo ancora soffrendo tanto a causa della pandemia Covid ma stiamo vedendo la luce. Dobbiamo guardare al 2022 con speranza e con fiducia ed è questo l'augurio più bello che davvero queste festività natalizie possano portare un cambio nella nostra vita in positivo. Sindaco chiediamo a tutti i primi cittadini dei piccoli comuni quanta passione ci vuole per amministrare un piccolo centro. A lei possiamo chiedere quanto impegno e quanta passione ci vuole per amministrare oltre che Torino anche la città metropolitana. Sicuramente tanto impegno, tanta passione ma è un'enorme responsabilità che assumiamo con fiducia, con tanta motivazione, consapevoli delle tante difficoltà però contemporaneamente anche determinati a fare in modo che questi anni possano essere anni davvero in cui tutte le cittadine e i cittadini della città metropolitana e della città di Torino trovino un miglioramento nella loro vita e questo è il compito degli amministratori e questo credo è il compito di un sindaco. Grazie per la visione!